Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri manati di sport. In questo video vi parlo di Serie C, il nostro angolo settimanale, la partita che ho scelto di seguire Piacenza contro Padova. Era un incontro che attendevo con curiosità per vedere questo Padova di Caneo, che come sapete è allenatore che stimo tantissimo, che ho visto più volte lo scorso anno con la Turris offrire forse il calcio più bello della categoria. Piacenza è partito con un po' di difficoltà in questo campionato, in un giro neanche si è rivelato essere molto più equilibrato e con molte più squadre e senza ancora una squadra che sia riuscita a prendere largo in testa la classifica. La trasferta era sul campo del Piacenza, Piacenza ultimo in classifica, con il ritorno di Scazzola da poche giornate in sella. Mi aspettavo di vedere un bel Padova, ho visto invece, sono rimasto colpito da un gran bel Piacenza. La partita è finita 1-1, il Piacenza ha pareggiato nei minuti di recupero, ma penso che il punteggio finale sia assolutamente corretto per quanto ho fatto vedere dalle due squadre. Il Padova è partito bene, ha sfruttato la propria maggiore esperienza, la propria maggiore concretezza in avanti, ha trovato con Ceravolo il gol subito al decimo minuto, poteva essere l'inizio di una serata tranquilla per il Padova e di una bella vittoria in trasferta, importante in questo momento del campionato, invece il Piacenza ha progressivamente preso in mano il pallino del gioco, ha costruito anche alcune occasioni da gol, non tantissime, però le ha costruite, ha impedito al Padova di offrire il proprio gioco spumeggiante e veloce e nel primo tempo soprattutto Cesarini ha mancato un gol dall'area piccola quando su un passaggio dalla sinistra si è trovato col corpo troppo in avanti rispetto al pallone e ha messo la sfera sopra la traversa. Piacenza che ha una caratteristica, chi segue il mio canale sa che non sono un tifoso del giovane per forza, ci sono giovani buoni, ci sono giovani meno buoni, non per forza come invece avviene nel giornalismo moderno dobbiamo premiare o esaltare le squadre fatte solo di giovani perché non è per forza un valore essere giovani, bisogna anche essere buoni. Il Piacenza è pieno di ragazzi giovani e devo dire mi hanno colpito, ragazzi volenterosi di grinta guidati da giocatori più di esperienza come Cesarini, come il grandissimo Cosenza in mezzo alla difesa, Masetti, però una squadra che gioca un gran bel calcio, una partita che è stata divertentissima, giocata con grandissimo atletismo e giocata con grandissimi contrasti anche in mezzo al campo, un ritmo altissimo, è stata una partita, a mio avviso, una delle più belle che ho seguito quest'anno nel campionato di Serie C. Nel secondo tempo purtroppo è diventato protagonista l'arbitro, devo dire che Scatena di Avezzano non mi è dispiaciuto nel modo in cui ha deciso di gestire la gara, lasciando correre molto, ha sicuramente aiutato uno sviluppo piacevole del gioco, fischiando molto poco, fischiando solo i falli principali, però poi c'è il solito limite di decidere bene gli episodi principali e la gara nel secondo tempo ha avuto diversi episodi principali, a mio avviso tutti sbagliati dall'arbitro in questo caso, dall'arbitro o dalla Terna comunque. Il primo caso è un penalty richiesto dal Piacenza, stavamo al minuto attorno al sessantesimo, c'è un contrasto in area tra Cesarini e Belli, dove Cesarini fa la furbata che per esempio ha fatto coda la settimana scorsa in Terna Benevento, cerca in Terna Genua, cerca il calcio di rigore, semplicemente è in anticipo su Belli, gli si mette davanti e Belli da dietro lo affonda. C'è tanto, è l'attaccante in questo caso che ha cercato di farsi fare fallo, però soprattutto in Italia, con i rigorini che circolano, questo era un rigorone, anche se poi in valore assoluto, ok, non è il rigore più netto del mondo perché magari avrebbe potuto cercare di cercare più la palla piuttosto che il contatto col difensore. Pochi minuti dopo il Padova segna, segna di fatto 2-0 perché in una bellissima azione veloce il tiro di rigori viene rispinto da tintori, io credo ampiamente oltre la linea, però in questo caso l'azione era veloce e l'assistente Vettorel probabilmente era completamente impallato dal palo e dal portiere che era sdraiato sulla linea di porta coprendo il portiere. Per scatenere, impossibile vedere, resta credo un errore perché penso che molto probabilmente in questo caso la palla fosse entrata. Il punteggio resta di 1-0, il Piacenza cala molto nell'ultimo quarto d'ora nonostante le sostituzioni, è entrato Rossetti, anche giocatore che avevo molta voglia di vedere perché lo scorso anno col campo basso l'ho visto più volte come giocatore molto positivo, sono partiti invece Mora e Cesarini come spunte centrali, avrei voluto vedere più minuti di Rossetti, però il Piacenza si lascia un po' andare, il Padova sembra avere ripreso in mano il controllo della gara e invece al primo minuto di recupero arriva il meritato pareggio con Zunno che è molto bravo a mettere in rete dal lato sinistro su un cross dalla destra dove il Padova è schierato un po' male, nessuno interviene in mezzo, lì si fa anticipare ampiamente da Zunno che trova il punto del pareggio. Nel finale Parapiglia sulla fascia laterale paga per tutti Gasbarro che prende un cartellino rosso abbastanza risibile perché credo non avesse fatto niente di particolare una mano ma se il metro è questo potrebbero volare miriede di cartellini rossi nell'arco di una partita. Quindi è finita 1-1 con questo punteggio, il Padova è sesto con 18 punti a 4 punti da Renate. Padova che devo dire ho trovato, non temevo peggio visto certi risultati ultimi che ha fatto però sicuramente fatica ancora a imporre il proprio calcio, a imporre la propria personalità e il proprio maggiore tasso tecnico. Padova che deve ancora salire, è stato forse un po' sorpreso Don Piacenza che sicuramente ha dimostrato di non meritare assolutamente questo ventesimo posto con 5 punti che ha ma d'altra parte con un mister scazzola, sono sicuro che riuscirà a venire fuori un 3-5-2. Purtroppo si affrontavano due difese a 3 però a pazienza erano abbastanza un po' disattenzione sul primo gol. I due gol nascono entrambi da un po' delle disattenzioni difensive. Tutto sommato questo si può dire sono delle buone giocate degli attaccanti delle squadre in attacco ma ci sono delle responsabilità anche delle difese. Però il Piacenza è un bel centrocampo, questa dinamicità mi ha impressionato molto Frosinini che ha giocato veramente bene. Piacenza lo voglio rivedere davvero perché è una squadra che mi ha proprio colpito. Padova ancora da lavorare, credo ci sia ancora da lavorare per arrivare alle vette attese e per poter fare un campionato di vertice come ci aspettiamo, ancora più di vertice come ci aspettiamo tutti. Pagelle 6,5 a Tintori, 6 a Nava, 6,5 al grandissimo Cosenza, 6,5 a Masetti, 7 a Frosinini, migliori in campo a mio avviso o uno dei migliori comunque, 6 a Munari, 6 a Sulic, Perse si è infortunato e dovuto uscire sostituito da Parazzolo, 6,5 che ha avuto anche una buona occasione di testa nel secondo tempo, 6,5 a Gonzi, 6,5 a Zunno, 6,5 a Cesarini, 6 a Morra, positivo poco ma l'ingresso di Rossetti, 7 a Scazzola, molto bravo. Per quanto riguarda il Padova 6,5 a Donnarumma, 5,5 a Belli, 6,5 a Elie, 6 a Gasbarro, 5,5 a Vasic, 5,5 a Cretella che avevo visto molto meglio nella partita contro il Feral Pissalode la gara di ieri, 7 a Franchini e mi avviso il migliore del Padova, 6 a Zanchi, 5,5 a Piovanello, 6 a Russini e 6,5 a grande esperienza di bomber Ceravolo. Mi è piaciuto l'inserimento soprattutto di Rigori e l'inserimento anche di Eleni ci ha fatto bene alla manovra e all'equilibrio nel secondo tempo. 6,5 a Mr. Caneo, 4,5 purtroppo all'arbitro scatena che però voglio rivedere perché appunto a dire degli episodi che però purtroppo contano nella gestione della partita non mi è assolutamente dispiaciuto. Grazie ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione su questa gara, io vi saluto, iscrivetevi al canale e vi aspetto. Ciao a tutti e alla prossima con la Serie C, un bacio da Lox.